Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete parliamo di scarpe da trail, nel particolare vediamo le migliori scarpe da trail 2023 per ogni singolo brand. Insieme analizzeremo un po' le caratteristiche per chi sono più consigliate, ma bando alle ciance perché ci sono tante scarpe da analizzare ed iniziamo subito col video. Iniziamo da una delle scarpe che sono sicuro vi è piaciuta di più anche a voi in questo 2023, casa ASICS, parliamo delle gel Trabucco 11. Sarò sincero in casa ASICS è stato abbastanza difficile decidere quale portarvi perché tutte e quattro le scarpe che sono state presentate secondo me avevano il loro perché ed erano molto buone. Ma queste Trabucco 11 hanno quel cosino in più che me la fate preferire. Suola ASICS Grip che come sappiamo tiene praticamente ovunque con un bel tassello, intersuola in FF Blast, bello morbido ma anche reattivo che ci permette di fare anche delle gare abbastanza lunghe. So di molti che ci hanno fatto anche il Tordajan con questa scarpa quindi ci si può fare veramente delle distanze enormi. Tomaia bella traspirante, un tallone che comunque non ci fa scavigliare, che dire una scarpa che praticamente è adatta un po' a chiunque perché può andare bene sia dall'atleta esperto sia a chi si sta avvicinando. Soprattutto una scarpa adatta per qualsiasi tipo di terreno, non dovrete avere paura sia da farci le strade bianche sia alla roccia bagnata. Casa La Sportiva invece abbiamo queste nuove Jackal 2, non la versione buona perché quella non mi era piaciuta particolarmente, la versione normale. Suola Frixion Red, diciamo una suola che può andare bene un po' per sentieri battuti, strade bianche, eviterei un po' la roccia, il fango, diciamo dei terreni abbastanza semplici. Intersuola poi in eva a doppia densità che ci permette di fare un po' anche delle gare lunghe, 70-80 km senza nessun problema. Tomaia bella traspirante con degli inserti in plastica sulla parte laterale che permettono un'ottima calzata. Che dire, poi è una scarpa abbastanza classica, sicuramente una scarpa anche qua adatta un po' a tutti, anche a chi si sta avvicinando al trail. Una scarpa che io vi consigliamo per collegare sì lunghe ma su terreni abbastanza semplici. Casa Dynafit, una delle rivelazioni di quest'anno, le nuove Ultra 100. Suola in Vibram Mega Grip Traction Lag, ottima, davvero ci si poteva fare un po' tutto, magari un pochino meno il fango, lì avevo trovato qualche limite. Intersuola in eva a media densità, ottimo per ammortizzazione e anche per la reattività, ci si poteva fare delle gare anche abbastanza lunghe. So di qualcuno che in questa gara ci ha fatto anche la lavaredo Ultra Tail, quindi abbastanza lunghe. Ottimo tutto il comparto della tomaia, molto traspirante. Anche il tallone e il pre-roader, ottimo, nessuna storta. Che dire, una scarpa anche qua un po' per tutti, sia per chi inizia, sia per chi vuole spingere. Una scarpa che è stata veramente una rivelazione perché sta segnando un netto cambiamento rispetto a quelle che erano scarpe Dynafit di qualche anno fa. Casa New Balance, la scarpa più ammortizzata e anche più grossa di questo 2023. Le New Balance Fresh Form X-More Trail V3. Un nome tanto grosso quanto la scarpa perché veramente era una scarpa enorme. Suola Vibram XS-Track Eco con Traction Lag. Una suola che, se dà sul fango, se la cavava abbastanza bene. Una suola però abbastanza morbida che sulla roccia non era proprio il suo terreno adatto. Una scarpa alta 4 cm, veramente molto ammortizzata. Una scarpa di quelle che quando ci mettiamo dentro il piede si affonda per bene. Una scarpa che vi ho sconsigliato molto per il terreno tecnico, sia perché è proprio grossa la scarpa, sia anche per la suola. La vantaggio numero uno di questa scarpa però era proprio la sua ammortizzazione. Ci permette di fare delle gare lunghissime, davvero anche gare 300 km, soprattutto adatta anche per quelle persone che magari sono dei pesi massimi. Sono delle persone abbastanza grosse che hanno bisogno di tanta protezione e tanta ammortizzazione. Sicuramente non una scarpa invece per chi vuole andare veloce, chi vuole fare delle gare in cui spingere e magari delle gare anche abbastanza brevi. Casa scarpa le Spin Planet. Che dire, è una scarpa che è piaciuta a tanti di noi. Suola presa proprietaria di scarpa l'abbiamo sempre trovata ottima, sia sul fango sia su roccia bagnata. È una scarpa che dal punto di vista del grip si può utilizzare praticamente ovunque. Inter suola a mila densità, ottimo sia per ammortizzazione che per reattività. Una tomaia poi tutta completamente traspirante, davvero è una delle scarpe più traspiranti di questo 2023. In generale l'abbiamo trovata una scarpa veramente molto molto performante. Adatta un po' a chiunque, sia a chi magari è un atleta intermedio, sia a un esperto. Una scarpa poi che strizzava molto molto l'occhio a tutto quello che era anche l'ambiente. Perché gran parte della suola, dell'intersuola e tutti i materiali erano riciclati. Prima di continuare vi chiedo, voi con quale scarpa vi siete trovati bene in questo 2023? Fatemelo sapere, mi raccomando qua sotto nei commenti, così ne discutiamo assieme. Casa Topo Athletic. Qui abbiamo le Topo Mountain Racer 3. Una conferma di casa Topo Athletic, grazie sicuramente alla suola Vibram Mega Grip con questo bel tassello alto 5 mm che praticamente le dà un grip ovunque, sia sulla roccia bagnata, sia su fango, sia naturalmente sull'asciutto. Un ottimo intersuola realizzato in Zip Foam, che è comunque ottimo per l'ammortizzazione e anche per la reattività. Tomaia molto molto traspirante, magari un pochino meno resistente perché a me si era un pochino bucata. In generale è una scarpa con quale facci delle lunghe, sia su terreno, particolarmente anche tecnico, sia su terreno un pochino più semplice. La particolarità poi delle Topo, naturalmente, è sempre quella di avere una parte anteriore molto grossa. Lo spazio sulla parte anteriore le permette di ospitare anche i piedi più larghi. Casa Merrell, le Agility Peak 5. Anche lei una bella rivelazione di questo 2023. Suola Vibram Mega Grip Traction Lag, con un'ottima tenuta sia su fango, sia su roccia, sia su tutto quello che è l'asciutto. Bello tutta la parte di intersuola in Float Pro, ottima davvero anche lei per ammortizzazione e reattività. Una scarpa utilizzabile praticamente un po' da chiunque. Bella, traspirabile, nell'Aptomaia, in generale una scarpa sia da ultra, ma anche delle gare di media distanza. Che dire, è stata anche lei una bella rivelazione, magari un pochino meno utilizzata, perché è un marchio un pochino più sconosciuto. Però sono sicuro che Merrell si farà valere anche nel 2024. Casa Salmon abbiamo le Thundercross, quelle che sono le scarpe per questo autunno-inverno. Ho scelto loro perché secondo me tra tutte sono quelle che hanno le migliori prestazioni per quanto riguarda sia la roccia bagnata, sia il fango. Un'ottima Tomaia che non faceva entrare i detriti. Soprattutto una scarpa pensata appunto per quando dobbiamo fare delle gare sia medie sia lunghe. Quando piove, quando magari ha piovuto i giorni primi, quando c'è tanto fango. Una di quelle scarpe da tenere sempre lì buone, soprattutto per quei giorni in cui piove e dobbiamo fare una gara. In generale poi l'Energy Foam di cui è fatta l'intersuola, devo dire, è veramente ottimo. Una scarpa poi che costava anche abbastanza poco, quindi devo dire, anche da quel punto di vista, sicuramente molto apprezzata. Casa Scott abbiamo l'Ultra Carbon RC. Una suola proprietaria di Scott con il quale fare semplicemente dei terreni molto semplici, ben battuti o delle strade bianche. Ma mi è piaciuta particolarmente questa Ultra Carbon RC perché aveva una piastra in carbonio Carbitex. Soprattutto una piastra in carbonio che ci permetteva di utilizzarla anche se eravamo degli atleti non proprio evoluti. Magari una persona di media classifica che però vuole approcciarsi al carbonio. Una scarpa che dà un ottimo sostegno sia nella parte inferiore, sia tutto il collare, che la tomaia. Diciamo che se siete degli atleti di media classifica e volete approcciarvi al carbonio senza prendere le scarpe troppo estreme, queste Scott Ultra Carbon RC sono sicuramente un'ottima scelta. Casa Brooks Running, le nuove Cascadia 17. Una suola Trail Track Green di Brooks. Ottima su tutto quello che era asciutto e anche roccia bagnata. Un pochino meno sul fango. Una scarpa che mi era piaciuta tanto soprattutto per le Sky Race. Una scarpa a utilizzare in gare abbastanza brevi, di media lunghezza. Le Sky Race, come dicevo, sono sicuramente le gare principali in cui utilizzerei queste Brooks. Tomaia molto traspirante con tutta una bella protezione da rocce e detriti. Una scarpa magari un pochino più per persone medie e volute. Magari non le prenderai in considerazione se siete tanto dei principianti, soprattutto per il tipo di gare anche per cui sono consigliate. Casa The North Face abbiamo le Summit Vective Pro. Una scarpa con piastra di carbonio anche lei. Una suola Surface Control e proprietà The North Face. È sicuramente consigliata per tutto quello che erano dei sentieri abbastanza semplici. La cosa però che mi ha convinto è stata tutta la parte di amortizzazione e la reattività. Queste scarpe sono l'ideale per chi vuole vincere, per chi vuole andare veloce, per chi vuole vincere delle gare anche lunghe. Le sconsiglierei a tutti quelli che sono atleti all'inizio o comunque di media classifica. Una scarpa abbastanza leggera con la quale si può spingere tanto. E soprattutto poi anche tutta la parte di Tomaia veramente molto molto traspirante. Diciamo che questa, anche per il prezzo a cui viene venduta, è una scarpa da Atleti Pro. Casa Evagdict o Kipran o Decatron. Adesso stanno cambiando nome. Le MT Cushion 2. Una scarpa realizzata con suola proprietaria che anche qua, diciamo che sul fango se la cavava bene, su roccia bagnata no. Quindi magari da utilizzare in quelle giornate in cui siamo sicuri di non trovare della roccia bagnata. Un'intersuola comunque abbastanza amortizzante e bello reattivo. Tomaia e Matrix che ha sempre una garanzia sia per quanto riguarda la traspirabilità sia per quanto riguarda invece tutta la parte anche di durabilità. Che viene una scarpa di cui sicuramente il suo grosso vantaggio è il prezzo. Forse è la scarpa più economica di tutte quelle che abbiamo visto. E per chi si sta approcciando al trail running, soprattutto magari non vuole spendere le cifre fogli per le scarpe, queste possono essere sicuramente un'ottima soluzione. Casa Soconi abbiamo le Soconi Peregrine 13. Suola power track, devo dire che si comportava abbastanza bene un po' ovunque. L'intersuola che mi era piaciuto molto in power run, veramente molto reattivo ed ideale anche per farci delle gare di media a lunga distanza. Soprattutto la Tomaia, veramente molto particolare e anche molto traspirante. Una scarpa anche lei che non costava tantissimo, con quale poter fare dalle gare sia di media che a lunga distanza. Eviterai magari le lunghissime distanze, però devo dire una scarpa veramente realizzata molto molto bene. Infine casa Oca, questa è Tecton X2. Una scarpa con piastra in carbonio, che sicuramente non brillava tanto per la sua tenuta sul fango, perché questa Vibram Mega Grip Light Base aveva dei tasselli molto piccolini e anche molto bassi. Sicuramente però ha una scarpa molto reattiva. Una scarpa con quale ci si poteva fare anche delle gare molto lunghe. Non a caso ci sono stati degli atleti che ci hanno vinto anche delle gare dell'UTMB con una scarpa molto simile a questa. Davvero una scarpa molto traspirante anche nella Tomaia grazie al Matrix. È molto duratura, molto leggera, perché comunque quando ci si corre si riesce a correre a dei ritmi abbastanza alti. Sicuramente una scarpa anche qua per chi vuole spingere, per chi vuole vincere delle gare. Non una scarpa per chi invece è alle prime armi. Detto ciò ragazzi, queste sono state le mie scarpe 2023 preferite per ogni singolo brand. Come dicevo prima, fatemi sapere qua sotto in descrizione con quale scarpa voi vi siete trovati bene ed è la speranza che sia stato esauramente esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!